buongiorno da cipro nord oggi siamo nella zona di long beach vi vorrei parlare un po della zona di long beach famagosta e gli investimenti qua a cipro nord come vedete c'è la spiaggia dorata lunga di un chilometro e mezzo in estate qua ci sono i lettini che costano solo un euro abbiamo il sole 330 giorni siamo nell'area di mackenzie lungomare in long beach qua potete giocare con i vostri bambini potete fare due passi sulla spiaggia o affittare una bici per fare un giretto nell'area e proprio dietro di noi ci sarà la vostra casa dove potete andarci tranquillamente con un sottopassaggio le case qua iniziano da lì circa 50.000 euro potete trovare dei monolocali bilocali o trilocali potete comprarvi una casa con reddito garantito o potete comprare una casa vacanza adesso andremo nei progetti vi faccio vedere uno per uno cosa potete comprare adesso siamo nei showroom questo è una bilocale tutto l'arredamento che vedrete qua sarà incluso nel vostro parchetto vi basta prendere lo spazzolino e venire qua questa è la stanza del letto e qui vedete il bagno di fronte di voi vedete la costruzione dell'albergo di 5 stelle col casino davanti c'è la piscina di 4000 metri quadrati inclusa anche una piscina per i bambini in mezzo vedete la costruzione del bar chiamato punta cana e di fronte vedete la spiaggia si continua con un altro progetto siamo la zona di ischiele ma adesso siamo in un progetto lungomare che ha la sua spiaggia privata queste case che vedete dietro di me sono ville con la piscina dietro queste ville ci sono quadrilocali e in più ci sono bilocali trilocali e monolocali anche in questo progetto questo progetto consiste di una piscina all'aperto alla spa massaggi a una sala di ginnastica a un ristorante e alla sua spiaggia privata ma in più dietro questo progetto c'è la fase 2 dove potete comprare degli appartamenti monolocali a partire da 60 mila euro con rate senza interesse siamo in un altro progetto per chi vuole delle vacanze già pronte o quasi pronte questo è il vostro risorto in totale a 10 piscine tra cui uno è una piscina tropicale spa gym sala ginnastica nido per bambini due parco giochi per bambini c'ha tre ristoranti due bar di fronte c'è il supermercato c'è la pasticceria c'è la caffetteria dunque è un riso composto da tante cose tutte messe insieme è composto da sei diverse riso ognuno finirà in una data diversa tra cui potete scegliere qualcosa già pronto come questi qualcosa che finirà tra l'anno prossimo o qualcosa che finirà nel 2024 il vantaggio di questo progetto è che vi può offrire fino a 72 mesi di rate senza interesse con solamente 30 per cento di anticipo vediamo il progetto dall'altro ciao 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 ciao